Il primo pensiero connesso a come un animale è il fatto che all'inizio c'è una lista, c'è una lista di adoro, adoro i libri motivazionali, adoro alzarmi presto la mattina. Ecco, una cosa importante è percepire il fatto che non è vero, è il contrario, non lo adoro per niente, lo odio. Tutte le cose negative che accadono nella nostra quotidianità, in senso più ampio tutte quelle che sono le pressioni della vita, poi mi portano a difendermi e quindi ad attaccare. Il principio è un po' questo, è riuscire a smettere di collezionare tutti i dolori, tutte le rabbie che ci sono intorno per poi rilanciare la valanga negli altri e ricercare in se stessi quello che ci fa stare bene. A noi piace pensarlo come un pezzo post-punk, ci riguarda un po' un'ambientazione di Manchester e io mi ricordo proprio la difficoltà di trovare l'accordo giusto quando poi doveva esplodere. Poi per fortuna è arrivato quel sì minore. Far partire un ritornello con un accordo minore è sempre un po' una sfida, però siamo molto contenti del fatto che si sia mantenuta un po' questa tensione, questa tristezza anche nella parte più aperta della canzone stessa. Il pezzo è molto ritmato, mentre le liriche sono abbastanza scure e questo lo vogliamo riproporre anche all'interno del video. Con Trilater abbiamo questo background comune noir che ci sembrava perfetto per far trasparire questa parte. Forse questa parte di convivere con i propri difetti e poi tirarli violentamente verso gli altri è un po' una cosa che accomuna il rapporto che c'è tra noi quattro, perché è una roba brutta forse, ma che alla fine ha creato una sorta di equilibrio democratico tra di noi dove nessuno primeggia. Veramente dopo un anno come quello che è stato il 2020, far rivivere di nuovo la musica, scrivere pezzi nuovi è qualcosa di bellissimo, quindi siamo molto felici. Per timore E più di più non so